Scene da vero e proprio film d'azione con inseguimento, sparatori e un rapinatore ferito da un colpo d'arma da fuoco al pronto soccorso di Isernia. Comincia tutto ieri pomeriggio sul far della sera quando una Hyundai con tre persone a bordo affianca un anziano che stava passeggiando con il suo cane lungo la piana di 5 miglia a Roccaraso in Abruzzo. Un uomo armato di pistola scende dall'auto e minaccia il passante chiedendogli il portafogli. Questo glielo consegna senza affiatare ma appena l'auto si allontana in direzione Isernia Venafro chiama il 113 e parte la caccia all'uomo sulle strade del Molise per la precisione sulla statale 158 la Castel di Sangro Roccaravindola. Auto della finanza della polizia e dei carabinieri si lanciano all'inseguimento della Hyundai con i tre rapinatori. Sono le fiamme gialle che li bloccano dopo che hanno tentato una deviazione dalla statale 158 nella frazione di Roccaravindola fuggendo per le stadine interne di Masseria la Corte ed ecco un video girato da un residente della zona dove si sentono distidamente sirene e spari. Oramai sono bloccati. Ma erano tante volanti sia di polizia che di finanza e anche i carabinieri locali comunque stavano qui. In effetti era una caccia all'uomo. Nella sparatoria resta ferito un rapinatore di 54 anni originario di Aprilia, un rom vecchia conoscenza della giustizia che sembra collegato alla stessa famiglia che tempo fa rapinò il notaio gamberale a Isernia. I finanzieri lo soccorrono e vista la gravità della sua ferita non aspettano il 118 ma lo portano direttamente al pronto soccorso di Isernia. Abbiamo visto un'auto della finanza far scendere questa persona che aveva una ferita sulla gamba. Ripeto ci ha colpito molto la gentilezza con cui questi finanzieri gestivano e il primo impatto sembrava che si trattasse di un loro collega. Ora il rapinatore è stato di fermo in ospedale piantonato dalla fiamme gialle. Sul caso indaga il sostituto procuratore Gaeta, intanto le battute nelle campagne di Rocca Ravindola sono continuate per tutta la notte ma non è stata trovata traccia degli altri due malviventi. Comunque hanno le ore contate, i clan a cui appartengono sono conosciuti alle forze dell'ordine che già stanno monitorando le celle telefoniche per risalire agli altri due componenti del commando che ieri sera ha messo a ferro e fuoco la provincia di Isernia.